Ciao ragazzi sono Fawlish e benvenuti in questo nuovo video dove vi faccio vedere questo joystick Questo è un joystick per smartphone che ho comprato su un sito cinese Ha un costo bassistimo Funziona, funziona anche abbastanza bene per quanto l'ho pagato E niente, qua stanno scritte tutte le istruzioni in tedesco, irlandese, francese e portogallo Ok andiamo con l'unboxing proprio veloce veloce Proprio fast and furious E vai, vai E' finito l'unboxing Cioè questo è il famoso joystick per smartphone Che se riesco a farlo uscire senza distruggere tutto Ce la sto facendo, non ci credo, wow Questo è il joystick, come vedete è una ventosa sotto così che si può attaccare lo schermo E questa diciamo parte, quella là che toccando sullo schermo è come se fosse il nostro dito diciamo E' come il touch dei pennini Prendiamo un comunissimo gioco, in questo caso ho preso traffic racer Gioca, modalità di gioco, vabbè Senza fine, senso unico Ok, quartiere Ok A posto tipo come vedete qua abbiamo le freccette direzionali Se piazziamo il nostro joystick qua Aspetta Aspettate, fatemelo piazzare Ok Come vedete con questo joystick Se noi premiamo di qua la macchina andrà a destra Se noi premiamo a sinistra la macchina andrà a sinistra Destra, sinistra, destra Per cui noi possiamo accelerare e giocare tranquillamente con il joystick Ovviamente per far muovere la macchina come vedete Se facciamo così la macchina non andrà perché noi dovremmo toccare Noi dobbiamo toccare con questa parte sopra il display come vedete Così Toccando la macchina cambierà direzione E così questo joystick lo possiamo usare per qualunque altro gioco E in qualunque altro modo Non lo so come volete voi Questo era il joystick Se volete trovare come acquistarlo troverete il link in descrizione Io l'ho acquistato lì Si paga pochissimo Anche se la spedizione è un po' lunga Ci vuole tipo un mese per arrivare E passa però è almeno la spedizione gratuita Comunque niente il video finisce qui E alla prossima Ciao ciao Ciao